Truffa in danno agli azionisti di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Spunta un nuovo reato tra gli atti dell'inchiesta su Banca Tercas, un'indagine che porta la firma del PM Irene Scordamaglia e che conta 20 indagati, alcuni già imputati nell'inchiesta sul crack Tercas. Tra questi, anche l'ex direttore generale dell'Istituto di Credito Terramano, Antonio Di Matteo, e l'ex presidente del CDA, Lino Nisi. Gli indagati, questa volta, oltre a Nisi e Di Matteo, sono tutti direttori e dipendenti delle filiali Banca Tercas del capoluogo e della provincia. Ad oggi, la Guardia di Finanza di Terramo ha recapitato 20 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per la truffa ideata ed attuata da Banca Tercas nei confronti degli investitori, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Nel mirino, le azioni proposte da Banca Tercas nel 2011, offerte dai dirigenti e dipendenti delle diverse filiali, direttamente risparmiatori ai clienti che intrattenevano con l'Istituto un ordinario rapporto di conto corrente. Gli indagati avrebbero, con artifici e raggiri, proposto al cliente un investimento sicuro, con un rendimento annuo certo, mentre, invece, il prodotto finanziario venduto era in realtà senza scadenza e ad alto livello di rischiosità finanziaria. Operazione che procurava all'Istituto di Credito un ingiusto profitto, costituito dall'intero ammontare delle somme investite dai clienti, con pari danno al cliente che non percepiva alcun beneficio economico. Ennesimo episodio che coinvolge Banca Tercas, questa volta per truffa organizzata direttamente dai dirigenti e dai dipendenti, in danno agli azionisti per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro.